la prima scelta dei nostri secondi ospiti ma la scelta dei box di paolo baciglieri insieme a vincenzo filosa benvenuti bentrovati ciao ciao paolo come mai hai scelto questo brano e che ascolto spesso ok non credo che abbia molto a che fare con la storia che abbiamo fatto del Joker ma chissà chissà che però appunto possiamo iniziare proprio da qui cioè il progetto è assolutamente appoggiato sulla sorpresa sul sul chissà proprio perché Joker strategia dell'attenzione è un albo panini anzi una pubblicazione panini all'interno di un progetto più largo che iniziava anni fa con Batman il mondo ma adesso ha anche la sua dimensione anzi la sua versione anzi proprio il parere del Joker perché come per la precedente pubblicazione si portano i personaggi canonici della casa editrice di Batman in giro per non il mondo ma per nelle mani di altri autori altre matite altre altre penne e si danno a loro la libertà mi direte anzi proprio questa è la prima domanda la libertà totale di trasformare oppure trasportare questo questo personaggio Joker appunto nella propria storia come Paolo come iniziata come avete preso la questa sfida come avete appunto approcciato al progetto allora la colpa il merito la colpa di questo crimine o di questa o di questa bella avventura è della panini Italia piccolo team panini che ha scelto me e ha scelto Enrico Brizzi che è il terzo autore di questa storia oggi non c'è ma è qui diciamo di spirito ha scelto noi per fare questo Joker italiano quindi ho incontrato Brizzi che conoscevo solo perché è l'autore di Jack Frusciante uscito dal gruppo come tutti quelli anche più giovani di me sanno e ho conosciuto Brizzi ho scoperto che è un appassionato e anche direi esperto lettore di fumetti anche autore di fumetti è stato non è il primo fumetto che scrive e e quindi che dire ci siamo ci siamo messi all'opera e poi si è aggiunto un colorista un complice abituale delle mie malefatte che è Vincenzo diamo qualche elemento per chi non non ha letto o comunque non si è ancora avvicinato a questo Joker strategia della tensione praticamente senza dire troppo perché in effetti poi rischiamo di eliminare la lettura che è insomma molto agile molto concentrata e molto ritmata Joker si trova a Bologna e già questo insomma con unito al titolo vi può far capire tante cose e quindi si fa effetto praticamente è come un trasportare teletrasportare uno che è diciamo considerato uno dei cattivi storici no dei fumetti uno dei personaggi anche più affascinanti non solo grazie alla diciamo parte cinematografica della sua vita ma anche proprio per la sua storia di cattivo un cattivo che sicuramente conoscono tutti ma che non è mai facile da interpretare no è un cattivo che sfugge a qualsiasi tipo di controllo come i cattivi buoni buoni nel senso che funzionano ben scritti esatto sanno fare e in questo caso entra in una storia di cattiveria che è una storia di cattiveria del nostro paese una storia che sfugge anch'essa effettivamente al controllo e tuttora è una storia che sfugge al controllo o meglio di cui si sa tutto ma a volte si fa finta di non sapere niente ed è soprattutto che viene molto utilizzata e sfruttata diciamo dal punto di vista anche sociale e politico e come è stato affrontare questa storia che tipo di anche tocco personale avete scelto di dare a questo albo tra l'altro nessuno dei due interlocutori al telefono è di bologna ok paolo forse anagraficamente era vicino perché è nato a verona però vincenzo è un po più più lontano anche nel tempo come che cosa c'è di vostro in questo racconto iniziamo da da vincenzo vabbè cominciamo da me ma io sì è vero che sono lontano nel tempo però bologna lo è vicino nel cuore la storia perché c'è tantissima della c'è il gruppo frigider quella quell'area di scozzari ma ma anche compare anche un po un bel po di magnus che è il mio autore preferito e quindi mi ci sono ritrovato subito e poi mi è piaciuto tantissimo vabbè io quando quando faccio questo tipo di collaborazioni con paolo a cui devo il 90 per cento delle belle cose che mi capitano in ambito fumettistico me le godo prima di tutto da lettore mi è piaciuto tantissimo questa trasposizione di gioco era cattivo maestro no diventa una sorta di cattivo maestro in quegli anni ce ne sono stati tanti ma questo mi è sembrato perfetto sia per la per la facilità con cui si è si è ambientato nella bologna di quegli anni almeno per come l'ho conosciuta io come ho imparato a conoscerla io tra libri musica fumetti e sia perché la dimostrazione che giocare un personaggio con cui veramente si possa si possa fare tutto io poi mi ci sono approcciato in maniera facilissima nel senso il mio era il compito del colorista il compito meno infame in questo caso per due motivi primo perché devo solamente colorare e non devo reinterpretare il personaggio in maniera azzardata se non limitarmi al colore e poi perché e poi perché colorare le tavole di paolo è facilissimo no cioè nel senso sono così belle così piene di dettagli che ci si diverte sempre l'unica cosa che ho dovuto fare ma come faccio sempre con i suoi lavori da colorare stare molto attento a lasciare che sia sempre prima il tratto a parlare questo per me facilissimo tutto tutto tutta gioia e felicità per me beh facilissimo perché lo sai fare nel senso che poi il lavoro del colorista in realtà è una cosa decisamente complessa forse parlo paolo ce lo può anche confermare no rispetto alla commissione al legame con il suo di lavoro paolo assolutamente tanto c'è da dire che questo joker è stato effettivamente a ragione vincenzo è stato facilissimo da fare nel senso che abbiamo preso questo personaggio che oltre a essere come dicevi tu difficilmente inquadrabile ha anche il vantaggio di essere malleabile di essere trasformabile ecco l'abbiamo preso e l'abbiamo portato in casa nostra quindi abbiamo giocato in casa ecco sia io che brizzi che vincenzo e quindi non è stato non è stato difficile per noi come lavoro è stato assolutamente appunto giocare in casa e spesso è stato citato giustamente a proposito di bologna che tra l'altro la città dove ho studiato all'accademia di belle arti è stato citato andrea pazienza giustamente ma vincenzo anche qui ha ragione dicendo che forse la presenza più dal punto di vista fumettistico la presenza bolognese più importante nella nostra storia è quella di magnus e c'è anche un personaggio che ricorda molto da vicino lo sconosciuto di magnus e nella nostra storiella ma soprattutto c'è come spesso faceva magnus la volontà di usare la nostra storia recente storia recente che sfocia nell'attualità in senso drammatico ecco inter usarla come benzina come propulsore per raccontare una storiella e di fiction ovviamente e quindi direi che è stato è stato facile assolutamente per noi per me sarebbe stato impossibile fosse molto difficile a disegnare una storia di bassman o transiti ecco paradossalmente avrei avuto grosse difficoltà a disegnare una storia del genere dice giocera bologna ripeto si gioca in casa in più ci sono i colori di vincenzo che ora ci andiamo per quanto mi riguarda sono sempre una festa una cosa come dire è il vestito della domenica dei miei fumetti magari tra l'altro un ascoltatore giustamente simone ci scrive simone ci scrive al 351 5241 101 non a caso joker è anche un jolly che quindi si può mettere dove ti pare in effetti è questo però è interessante secondo me anche un altro collegamento rispetto proprio alla storia all'interno della quale arriva joker che è il diciamo il concetto di buono cattivo che è poi quello fondamentale no anche rispetto esatto alla relatività del buono cattivo che in questo caso come già detto anche prima spesso viene strumentalizzata no e in questo il personaggio di joker è estremamente simbolico e rappresentativo ma anche la città perché cito davanti la tavola una delle prime tavole se vuoi trovare una città davvero dura dove altrettanto si mangia magnificamente devi andare a bologna e la storia di brizi sicuramente si mangia meglio che a gotham così a occhio e poi non so un buon ristorante non è dato sapere sicuramente però brizi ha realizzato una storia che racconta l'oggi con le delle immagini delle anche dei fatti realmente accaduti dei riferimenti ha fatti persone degli anni 70 80 nell'edizione cartacea ci sono anche degli approfondimenti con omissis ma la cosa più interessante è appunto questo questo inserire in una bologna molto presente nella memoria di chi legge di chi disegna di chi scrive di colore di chi colora questo tra virgolette grande vecchio che è il joker che tra l'altro ha le fattezze anche le movenze di un mio professore delle dell'università salutiamo il professor menduni così un pochino il il tutto appunto con un tratto e anche con un gioco di memoria molto molto complicato quindi appunto paolo ha fatto la scuola dall'accademia a bologna e poi appunto come diceva prima il vestito della festa ma io direi anche la pasta del lsd la data filosa perché appunto questi anche nella vendizione cartacea c'è sia la versione bianco e nero che quella colori ma sono anche invogliano queste due versioni accostate invogliano la lettura doppia ma qual è stata invece la cosa più difficile visto che adesso sembra tutto facile no non credo che sia stato tutto facile ma parlo io non è stato tutto facile rispondi vincenzo no fai tu fai tu paolo vai 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 scusami ma perché dall'altra parte dell'oceano c'era questa per me presenza strada ecco con cui non ho avuto nessuno collegamento diretto ok all'inizio del lavoro la chiamavo la dc giustamente alla fine la chiamavo la dc certo e però loro hanno hanno fatto delle richieste hanno però niente di di strategicamente significativo ecco che già già come dire che ci ha impedito di raccontare la nostra storia in maniera come come volevamo fare ecco quindi ripeto difficoltà vere non non me ne vengono e invece a proposito di sì 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 grazie sempre internet di esistere è quella di documentarmi molto attentamente di solito quando faccio questo tipo di storie che hanno un contesto storico appunto ho bisogno di un sacco di immagini e ne uso in realtà una minima parte però anche quando devi disegnare un cazzonetto rovesciato e dato alle fiamme se te lo inventi sarà sempre un cazzonetto x invece se hai una reference chiamiamo reference tecnicamente parlando se sai come era fatto quel cazzonetto ecco lo disegni in maniera diversa lo disegni in maniera migliore secondo me certo vincenzo invece a saperlo bastava vedere il telegiornale di sabato e vabbè vincenzo dici un'altra cosa che volevo dire è che questa storia è ambientata appunto alla fine degli anni 70 ma effettivamente mentre disegnavo questa storia di studenti che si scontravano con la polizia negli stati uniti stava succedendo esattamente la stessa cosa su una scala forse anche maggiore certo certo vincenzo torniamo sui colori cioè loro dicono che una facile secondo me cioè che 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 non ha avuto difficoltà ma era una storia dal coefficiente di difficoltà altissimo cioè non è che capita tutti i giorni di prendere un personaggio così popolare farci una storia che che anche un commento sociale no sul contemporaneo anche su quello che è successo tanti anni fa in italia e io naturalmente me la sono me la sono vissuta nei vari nelle varie fasi di lavorazione ho detto ma come fanno a fare sta roba invece ci sono riusciti alla grandissima e io l'ho detto che che problema c'è per me per colorare delle tavole così belle nessuno cioè anzi non devo no veramente l'unica difficoltà è sempre quella di non mettere il colore sopra il bianco e nero di paolo quella è la difficoltà e poi una cosa che ci siamo detti da subito che ha facilitato tantissimo il mio lavoro sono state quei quei punti di riferimento sulla colorazione cioè non so se avete notato c'è tanto retino no si chiama proprio la colorazione di quegli anni sì in una veste un po più libera ecco perché non è che proprio ci siamo andati a recuperare le dinamiche di colorazione di quegli anni lì però il retino ci ha aiutato tantissimo e si si sposa benissimo con con il lavoro di paolo no che lo usa tantissimo anche nel suo nelle sue tavole in bianco e nero e poi mi ha aiutato a ad attenuare anche quei quei momenti di colore più forte di modo che le tavole di paolo potessero sempre brillare nel loro bianco e nero su sulla documentazione dico cioè ribadisco tutto quello che ha detto paolo perché poi alla fine è stato soprattutto lui a darmi le referenze per per mantenere alcune alcune cose fedeli ecco mi pare che abbiamo avuto paolo la difficoltà sull'arancione su quell'arancione delle dei sull'arancione delle pareti delle strade di bologna degli no quelle cose lì però poi ce la siamo cavata a me piace tantissimo quel mattonato bolognese è proprio lui sia di giorno che di notte sia con gli scontri che con dentro l'università è veramente molto interessante è veramente molto interessante questo progetto stiamo parlando di giocare strategia della tensione lo trovate sia in versione deluxe edito autonomamente sia all'interno del volume il mondo tutto pubblicato da panini per quanto riguarda le reference vincenzo filosa ha usato la sua scelta musicale come ipertesto perché se i pokes erano la scelta di paolo vincenzo filosa portato gli schiantos che sono proprio probabilmente la colonna sonora perfetta o il gruppo preferito la scoperta che jogger porta a gotham city immaginiamo che ascolta gli schiantos sono abbastanza convinta di questo sicuro come mai hai scelto vabbè a parte diciamo le cose evidenti come come mai hai scelto proprio loro eh perché quando vabbè quando suonavo quando avevo aspirazioni da musicista gli schiantos probabilmente sono stati la prima cover bolognese che ho affrontato per me sono stati sempre un mito un mito assoluto quindi mi sembrava giusto e poi io quando penso a bologna cioè se devo fare un un se devo creare subito un nesso logico logistico la prima parola che mi viene in mente è quella è eptodone mi sembra mi veniva facilissimo cioè la sentiamo assolutamente grazie mille vincenzo filosa paolo bacilieri gioker strategia dell'attenzione edito panini grazie grazie a presto grazie a voi ciao grazie a voi ciao genere ragazzi genere